Un giovane e il suo servo i loro gemelli identici e un'incessante sfilza di equivoci e di situazioni grottesche è la commedia degli errori di William Shakespeare sabato 23 e domenica 24 al nuovo teatro Sanità in un brillante adattamento per due soli attori con la regia di Eugenio Allegri avete fatto una domanda di ricovero nella nostra clinica privata sì, bravo, grazie bene, avete fatto una grande scelta al teatro area nord di Piscinola va in scena sabato e domenica la commedia Usciti pazzi diretta da Nico Mucci una farsa tragicomica che esplora i confini della normalità trattando con franchezza il disagio e il ricovero psichiatrico e ancora sabato 23 e domenica 24 al Nest La vita è l'opera di Dino Campana uno dei maggiori poeti del Novecento italiano Vinicio Marchioni interpreta La più lunga ora che attraversa la parola e l'immaginario dello scrittore morto in manicomio dopo 14 anni di reclusione Il nuovo teatro sanità il Nest e il teatro area nord potranno essere raggiunti col Polibus la navetta gratuita del comune di Napoli disponibile su prenotazione Grazie a tutti